Musica Oggi giornata dedicata alla commemorazione dei defunti al cimitero monumentale di Paternò alcuni cittadini hanno espresso il loro dissenso rispetto alla manutenzione del luogo sacro critiche anche per l'assenza dei bus navetta Nino Naso attacca il sindaco e critica le scelte politiche compiute sino ad ora su cimiteri e servizi correlati la gente di Paternò afferma Naso è stanca di questa brutta politica Ai nostri microfoni Mauro Mangano risponde alle critiche e spiega le ragioni dell'ordinanza sui cimiteri e lo stoppa ai bus navetta Ai nostri microfoni afferma si tratta di paure infondate alimentate da chi vuol fare campagna elettorale La giornata di oggi in Sicilia si lega anche alla festa dei morti i regali per i più piccoli e i tradizionali dolci da gustare a tavola A Paternò fiera dei morti alla villa comunale pochi gli stand, molti questa mattina erano anche chiusi In diversi interventi tra Adrano e Biancavilla polizie e carabinieri hanno arrestato due adraniti e segnalati sette giovanissimi biancavillesi assuntori di droga I carabinieri di Randazzo hanno effettuato dei controlli in alcune aziende del settore della produzione vitivinicola nel versante Etna Nord, diverse le anomalie riscontrate La Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui dare il via alla redazione del bando per la gestione del velodromo Salinelle soggetti pubblici e privati potranno avanzare richieste di gestione dell'impianto sportivo Buonasera da Ciac News, apriamo il nostro telegiornale questa sera dedicando un'ampia pagina del notiziario alla commemorazione dei defunti a Paternò, al cimitero monumentale alcuni cittadini hanno espresso il loro dissenso rispetto alla manutenzione del luogo sacro anche critiche per quanto riguarda la sospensione del servizio dei Busnavetta Il servizio Oggi, 2 novembre, è il giorno dedicato alla celebrazione dei defunti per ricordare quanti hanno lasciato la vita per portare un fiore da depositare sulla tomba delle persone amate scomparse A Paternò, sia nella giornata di ieri, dedicata a tutti i santi che oggi è un pellegrinaggio verso i due luoghi sacri della città il cimitero di via Balatelle e il cimitero posto sulla collina storica L'amministrazione comunale, per organizzare la situazione al meglio ha sistemato alla meno peggio via Michelangelo Buonarroti nel quartiere di Scala Vecchia coprendo le enormi buche con asfalto a freddo che andrà via alla prima pioggia Si aspetta ancora di veder partire i lavori per la sistemazione dell'arteria stradale Assente invece il servizio di Busnavetta verso la collina storica ed inizialmente previsto per le giornate di ieri e di oggi Una situazione che ha determinato un calo nelle vendite dei fiori con gli amulanti posizionati su Piazza Santa Barbara che hanno criticato la situazione Oggi giornata alla commemorazione dei defunti come è andata con la vendita? Non tanto bene, ci aspettavamo molto di più perché magari le persone non si sono volute fermare perché c'era molto traffico delle macchine quindi si preferiva andare a comprare i fiori all'altro posto Ma quali fiori si sono venduti di più? Di più, sono stati il mazzolino, il crisantemo poi le rose, non tanto, tanto se le rose abbiamo venduto sono le fiori che si regalano per i defunti I cittadini esprimono tutto il loro disappunto anche rispetto alle condizioni del cimitero monumentale con interi settori a rischio crolli oltre alla non dignitosa manutenzione del campo comune Non abbiamo neanche tutela per i morti perché se vediamo abbiamo tutte le lastre che sono rotte, abbandonate e anche qua tutto sporco, non c'è neanche un po' di pulizia Cosa chiedete? E chiediamo di avere un po' di dignità almeno al cimitero di un po' di pulizia, un po' di manutenzione Il cimitero monumentale, questa zona è un po' degradata? Sì, molto Io qua ho mia sorella e onestamente c'è tutto il da farsi che si dovrebbe fare ma non si fa nulla, i morti che cadono dalle tombe entra l'acqua, non ci sono servizi si va a cercare l'acqua e non si trova la spazzatura che arriva sopra gli alberi anche il cimitero nuovo comunque ha molti disagi ma questa è la maggior ragione che dovrebbe essere il cimitero monumentale dovrebbe essere tenuto molto più pulito Questa è l'area delle tombe comuni però voi chiedete che venga data una giusta sepoltura anche più dignitosa Sì, la giusta sepoltura sì però ovviamente, anzi addirittura certi bambini di qua sono stati anche tolti dopo 30 anni ma il comune non fa mai nulla quindi si fa un appello ma non c'è niente di concreto comunque non verrà mai risolto nulla come del resto fanno a paternose da sempre L'argomento cimitero è finito poi al centro del dibattito politico negli ultimi giorni per la tanto discussa ordinanza del sindaco Mauro Mangano con la quale si stabilisce che per far fronte all'emergenza sepoltura vista l'assenza di loculi si potranno seppellire i defunti temporaneamente nelle cappelle gentilizie Un deciso no sull'argomento è arrivato dai cittadini e sull'argomento anche il Consiglio Comunale sta prendendo posizione con la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario ed urgente Di servizi che hanno suscitato numerose polemiche lo avete appena sentito nel servizio di Meri Sottile bene a rincarare la dose ci pensa Nino Naso che ha attaccato il sindaco e ha criticato le scelte politiche compiute sino ad ora su cimiteri e servizi correlati la gente di Paternò ha affermato Naso e stanca di questa brutta politica lo abbiamo intervistato questo pomeriggio sentiamo cosa ci ha detto Nino Naso, questa ordinanza sindacale sui cimiteri di Paternò il rischio di non poter tumulare i propri morti o di ritrovarsi altri defunti nelle cappelle di famiglia c'è una città che è ovviamente preoccupata? Ma è dell'assurdo questa ordinanza perché queste ordinanze si fanno quando ci sono situazioni di emergenza qua non ce n'è perché si sa, qualsiasi amministrazione sa statisticamente quante sono supergiù i morti e quante sono le nascite e quindi deve prevedere in tempo di costruire i loculi, le tombe di famiglia anche perché è un momento dove le somme purtroppo si recuperano sicuramente non si capisce, non viede a nessuna spiegazione non si riesce neanche a programmare questo credo che sia abbastanza grave una situazione del genere e non è neanche giustificabile c'è molta preoccupazione da parte dei parenti dei defunti, non so quando i defunti sono messi in questo momento in tombe provvisori, in loculi provvisori, in cappelle è veramente dell'assurdo la gente ha anche paura a Paternò di morire credo che sia molto grave questo Da 14 anni Paternò poteva contare su un servizio di trasporto attraverso i bus navetti in questo modo era stato risolto il problema dell'assalto durante i giorni della commemorazione dei defunti dell'assalto delle auto sulla collina storica invece quest'anno niente servizio che è stato annullato e tantissimi anziani soprattutto che stanno soffrendo davvero momenti di disagio Ma questo lo dico con grande rammarico perché io nel mio primo mandato nel mio primo anno di assessore ai servizi cimiteriali ho avuto questa intuizione ed è stato accolto benissimo dalla gente si è tolto l'ingorgo specialmente nel cimitero monumentale ma non solo i vecchietti, i disabili che in tutte le zone della città perché avevamo fatto più punti dove la gente poteva venire e poi andare ai vari cimiteri hanno perso anche questo credo che sia brutto anche perché il costo è minimo bastava una riorganizzazione del servizio con l'aste allora non mi ricordo quando costò un milione non so se c'erano le lire o c'era l'euro ma comunque una cosa minimale lì bastava poco bastava solo un po' di attenzione quindi è chiaro che io ho molta rabbia per tutto quello che sta succedendo può essere che neanche una cosa già conquistata la perdiamo pure non lo so se si può giustificare tutto questo con la mancanza ecco di somme credo che sia una mancanza di attenzione una mancanza di amore nei confronti dei cittadini della città e specialmente delle fasce più deboli e su un tema così delicato non poteva mancare la replica del primo cittadino il sindaco Mauro Mangano risponde alle critiche afferma si tratta di paure infondate alimentate da chi vuol fare campagna elettorale all'interno dei cimiteri non c'è alcuna emergenza ascoltiamolo sindaco quest'ordinanza sindacale per l'utilizzo temporaneo di cappelle gentilizze per la tumulazione di altri defunti è una questione che in questo momento è stata sollevata da più parte e che sta preoccupando ovviamente numerosi cittadini che temono tra virgolette che le proprie aree possano essere utilizzate e non si sa mai per quanto tempo si naturalmente come spesso accade vengono ingenerate delle prospettive terribili che vanno ben oltre la realtà perché la questione la questione di cui stiamo parlando è semplicemente una precauzione poiché stiamo costruendo stiamo finendo la realizzazione dei 40 loculi al cimitero nuovo il rischio la possibilità che noi volevamo ovviamente che dobbiamo in ogni caso scongiurare che si verificasse la necessità di seppellire qualcuno prima ancora che fossero finiti questi loculi e quindi precauzionalmente abbiamo detto se fosse indispensabile siccome evidentemente prima di tutto viene la necessità di seppellire chi è deceduto allora in questi casi andremmo caso mai andare a chiedere andare nelle cappelle gentizie dove ci sono quindi più posti quindi assolutamente mai naturalmente in una tomba di famiglia e mai in un posto di privato andare a chiedere che temporaneamente la salma venga riposta nella cappella prima cioè nelle more che i loculi venissero finiti questa precauzione è stata utilizzata da chi deve fare polemica per forza ovviamente per in generale terrore nelle persone che di fatto infatti non hanno avuto questo problema cioè voglio dire che non c'è nessuno a cui è stato veramente leso un diritto qualcuno che si è visto come dire intromesso da parte del comune o da una salma a casa sua quindi lei conferma che in questo momento non c'è alcuna emergenza e che non c'è alcun defunto che è stato seppellito fuori posto certo voglio dire che se l'emergenza si intende la requisizione diciamo così della cappella non è stata requisita nessuna cappella ripeto un amministratore deve prevedere anche le possibili emergenze e noi temendo che potesse accadere questo abbiamo intanto fatto un'ordinanza precauzionale ripeto ma lo può dire qualunque cittadino se c'è uno che viene e dice guarda non è vero perché il comune è venuto a casa mia cioè nella mia cappella e ha preteso un posto se c'è un cittadino che ha avuto questo caso venga e lo dica perché di fatto non è accaduto altra questione riguarda i bus navette il servizio dopo 14 anni è stato fermato e questo ha creato numerosi disagi soprattutto alla terza età ma si guardi quest'anno come tutti sanno le situazioni economiche del comune di Paternò non ci permettono di avere servizi efficienti gli scuolobus non erano in questo momento adeguati a svolgere quella strada ma vi devo dire che a prescindere da questa contingenza che si è verificata nelle ultime settimane noi già l'anno scorso abbiamo fatto un test perché quel servizio che c'era appunto da 14 anni era un costo per il comune stiamo parlando di un costo che era arrivato a essere di 10.000 5.000 7.000 in base all'anno migliaia di euro per poter assicurare quel servizio avevamo constatato già l'anno scorso sovrapponendolo quindi c'era una idea precisa da parte nostra sovrapponendolo al transito privato avevamo verificato che il terrore che si verificava magari alcuni decenni fa di situazioni di file interminabili di mancanza di parcheggio probabilmente non era più un terrore reale alla luce della situazione di Paternò in questi giorni io stesso personalmente ho verificato salendo quella che potrebbe essere la situazione un po' più difficile nel cimitero monumentale e vi devo dire che non mi sembra di aver riscontrato oltre il normale traffico del giorno dei morti quest'anno abbiamo avuto una festività dei morti con dei cimiteri che presentavano uno stato di pulizia ordinaria cioè non di pulizia fatta questa settimana ma di pulizia fatta già nei mesi scorsi regolarmente assolutamente dignitosa l'ho constatato perché tante persone venute apposta adesso perché magari tornano proprio per la festività a trovare dei defunti che sono secolati che vivono fuori mi hanno detto abbiamo visto finalmente un cimitero praticabile se poi ripeto dobbiamo cercare la polemica perché ci dobbiamo fare una campagna elettorale ogni giorno sul caso del giorno non guardiamo il fatto che sia pulito e guardiamo il fatto che manca il pulmino ma se questo sia un disagio per i cittadini non devono dire i cittadini stessi e lasciamo la polemica politica e ritorniamo a parlare della commemorazione dei defunti questa volta dal lato della tradizione la giornata di oggi in Sicilia si lega anche alla festa dei morti regali per i più piccoli e tradizionali dolci da gustare a tavola paternose svolta la fiera dei morti alla villa comunale pochi gli stand e alcuni addirittura anche chiusi guardiamo tra sacro e profano la commemorazione dei defunti è legata appunto anche ad un'attività economica insomma che ruota attorno a questa festa oltre a ricordare appunto in questa giornata i nostri defunti c'è anche la tradizione che vuole come ricorrenza tutta siciliana quella di lasciare un dono ai bambini e poi ci sono i dolci che ruotano appunto attorno a questa festa noi siamo all'interno della villa comunale dove si tiene la tradizionale fiera dei morti abbiamo incontrato i commercianti per la verità molto pochi questa mattina abbiamo chiesto loro insomma cosa è andato per la maggiore abbiamo sentito anche qualche cittadino certo forse andrebbe un po' maggiormente valorizzata però è sempre un inizio fiera dei morti qui a Paternò come sta andando? ma discretamente non come ci aspettavamo ma tutto sommato a meno cerchiamo di rientrare nelle spese per il resto non ce la mentiamo la gente c'è ma purtroppo già sappiamo da mestiere che i paternesi amano spendere i soldi fuori dal paese e quindi allora un appello insomma di spendere qui sul territorio? ma giustamente dovrebbe essere più o meno così però quel che ci manda il signore ci prendiamo tranquillamente voi siete qui fino al 6? fino al giorno 6 ossia domenica prossima che sarà l'ultimo giorno e speriamo che da qui a quel giorno un qualcosa migliorerà la festa dei morti si lega anche alla tradizione a tavola insomma queste sono le preziosità che noi abbiamo nella nostra tradizione e che insomma vanno consumate per la festa dei morti come lei dice queste sono la priorità della festività della festa dei morti perché le persone vengono principalmente per comprare e assaporare i prodotti tipici siciliani diciamo catanesi i palermitani della Sicilia indotto chiamati biscotti dei morti che si estengono in tutta anche l'Italia sono tanti diversi ma quello che lei ha più venduto qual è? ma principalmente si si va sulla rametta ripiena a nutella poi l'osso chiamato l'osso dei morti la paparella il biscotto della monaca le paste di mandorla prodotti casarecci diciamo fatti tipicamente come li facevano una volta a mano lei anche qui alla villa comunale la fiera dei morti come sta andando? discretamente abbastanza bene principalmente organizzata bene complimenti agli organizzatori le persone sono venute in questi giorni ovviamente soprattutto insomma qui lei vende caramelle per i bambini questo sì le persone sono venute purtroppo i tempi sono quelli che sono c'è questa crisi comunque si tira avanti c'è peggio voi siete qui all'interno di questa fiera dei morti insomma un po' per animarla certo sì mi è stato dato questo incarico di organizzare questa giornata sulla danza e quindi l'ho voluta dedicare sia la mattina che il pomeriggio non solo agli spettacoli ma anche a delle lezioni aperte di vari generi di zumba breakdance di caraibico oggi pomeriggio ci sarà il reggaeton la gestualità femminile sia per gli uomini che per le donne e insomma ci siamo unite un po' di scuole e abbiamo e stiamo portando avanti questa giornata insomma la danza scarica sì molto molto io consiglio sempre perché la danza è una disciplina che aiuta anima e corpo lei è un cittadino oggi qui alla villa per la fiera dei morti com'è? eh su come apre l'apertura il signor sindaco ha miso l'apertura alle nove perché rapono alle undici la gente vengono qua non le fanno entrare e la gente se le va che è una bit di più la bit non rende e resta un giallo l'omicidio di Dario Chiappone 27 anni assassinato la sera del 31 ottobre con 16 coltellate a gola addome e torace a riposto comune della riviera ionica e ancora al baglio dei carabinieri della compagnia di Giarre del nucleo investigativo del reparto operativo di Catania la ricostruzione della sua fidanzata una donna di circa vent'anni più grande di lui che sotto sciocca ha parlato di un tentativo di rapina andato male ma la violenta dinamica del delitto con la vittima fatta in ginocchiare sgozzata dopo essere stata martoriata con 16 coltellate lascia aperte altre ipotesi che gli investigatori ritengono al momento prioritario un delitto mascherato con una rapina dietro un omicidio forse progettato per un regolamento di conti o una vendetta personale adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Ciac News riprende subito dopo ancora con i temi della cronaca idea Brico Paternò è lieta di annunciarvi l'apertura del nuovo showroom spazio casa 500 metri quadri dedicati ad arredare risparmiando ogni spazio della tua casa cucina metri 360 completa di elettrodomestici con frigo maxi piano cottura 5 fuochi da 70 e con lavastoviglie 1690 euro cameretta a punte colore avorio decapata con doppio letto estraibile 590 euro divano con penisola convertibile in letto matrimoniale 390 euro divano terri ecopelle colore grigio 3 più 2 390 euro divano clara ecopelle colore beige 3 più 2 450 euro cameretta ponte moderna colori assortiti con doppio letto estraibile 390 euro tutto in pronta consegna fino ad esaurimento scorte personale qualificato ti accompagnerà nelle varie fasi dalla progettazione al finanziamento e infine al montaggio ci trovate in via Emanuele Bellia 265 paternò seguici su facebook idea brico paternò spazio casa un negozio veramente mobiloso e rientremo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale la denominazione di pomodoro pachino IGP coprirà da domani anche il datterino ampliando il numero di varietà che rientrano nel marchio di qualità riconosciuto dall'Unione Europea si è infatti concluso il periodo regolamentare di tre mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del nuovo disciplinare senza che nessuno si sia opposto alla sua modifica con il riconoscimento del pomodoro datterino tra le specie di pomodoro che godono della certificazione IGP il brand pomodoro di pachino acquista ulteriore forza e importanza sui mercati europei e mondiali lo ha spiegato Michela Giuffrida membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo con il prossimo servizio ci trasferiamo ad Adrano e Biancavilla in distinti interventi polizie e carabinieri hanno arrestato due adreniti e segnalato sette giovanissimi biancavillesi per assunzione di droga sentiamo il servizio due adreniti arrestati e sette giovani assuntori di droga segnalata a Biancavilla questo è il bilancio di distinti interventi di polizie e carabinieri fra Adrano e Biancavilla nella serata di ieri ad Adrano nell'ambito di servizi mirati al controllo di persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale agenti del commissariato ad Anita hanno arrestato un uomo di 51 anni del luogo Ignazio Vinci Guerra all'uomo è stata contestata la violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno essendo stato fermato sulla statale 284 all'altezza dello svingolo di Biancavilla quindi fuori dal comune di Adrano dal quale aveva l'obbligo di non uscire era a bordo della sua autovettura peraltro in compagnia di un pregiudicato per lui sono stati disposti i domiciliari sino al giudizio per direttissima i carabinieri di Adrano hanno invece arrestato il 46enne del luogo Antonino Restivo in esecuzione di una ordinanza di custodia cautela in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trento grazie alle indagini dei carabinieri del luogo l'uomo è ritenuto l'autore di una truffa con recidiva messa in atto il 4 agosto scorso nel comune di Imer in provincia di Trento l'uomo è stato associato nel carcere catanese di Piazza Lanza a Biancavilla invece servizio antidrogue da parte dei carabinieri è stato effettuato nel fine settimana per contrastare il sempre crescente consumo di stupefacente fra i giovanissimi in zone isolati militari hanno individuato sette giovanissimi biancavillesi di età compresa fra i 15 e i 17 anni sorpresi a fumare marijuana o con dosi dello stesso stupefacente in tasca i minorenni dopo essere stati segnalati alla prefettura di Catania sono state affidate ai genitori la droga una decina di grammi è stata sequestrata mentre nel complesso sono stati identificati 30 persone e 10 veicoli e i carabinieri di Randazzo hanno effettuato dei controlli in alcune aziende del settore della produzione vitivinicola nella versante Etna Nord diverse le anomalie riscontrate sentiamo di più nel mirino dei controlli questa volta sono finite varie aziende del settore della produzione vitivinicola del territorio Etna Nord in particolare dei comuni di Castiglione di Sicilia e Randazzo obiettivo dei controlli prevenire reprimere irregolarità in materia di sicurezza sanitaria ed alimentare nonché sicurezza sul lavoro e salvaguardia dell'ambiente le irregolarità diverse sono state riscontrate dai carabinieri della compagnia di Randazzo coadiuvati da quelli del nucleo antisofisticazione e sanità nucleo operativo ecologico e nucleo ispettorato lavoro di Catania d'intesa con l'ispettorato provinciale del lavoro diverse le anomalie riscontrate nelle aziende vitivinicole controllate detenzione di 200 litri circa di mosto concentrato e 300 litri circa di zucchero d'uva in forma liquida sottoposti a sequestro amministrativo stoccaggio di prodotti vinari in silos privi di etichettatura in violazione degli obblighi documentali prescritti per il settore vitivinicolo utilizzo di locale per il deposito di prodotti vinari in assenza di autorizzazione sanitaria e utilizzo di acqua priva delle certificazioni di potabilità nel processo di pulizia e sanificazione industriale con sospensione immediata dell'attività produttiva a tempo indeterminato sino ad avvenuta regolarizzazione i servizi di controllo sono stati disposti e coordinati dal comando provinciale di Catania e i deputati regionali Luca Sanmartino e Valeria Sudano parteciperanno domani giovedì 3 novembre alla conferenza organizzata dal comitato per il sì al referendum costituzionale del 4 dicembre l'incontro si svolgerà alle 17 nella sala conferenze della biblioteca comunale di Paternò e la giunta comunale ha approvato la delibera per la pubblicazione del bando che consentirà il trasferimento di gestione del velodromo Salinelle dal comune di Paternò a soggetti pubblici e privati che dovrebbero ricostruire il vecchio impianto sportivo ammodernandolo e consegnarlo agli sportivi di tutta l'area etnea sentiamo i dettagli cercasi gestori per il velodromo Salinelle di Paternò la giunta comunale ha approvato la delibera per redigere il bando che servirà per individuare soggetti pubblici o privati interessati alla gestione del grande impianto posto nel cuore della città paternese il nuovo gestore dovrà impegnarsi nel reperire i fondi per il ripristino del velodromo e nel presentare un piano di fruizione compatibile l'impianto si trova in un'area attrezzata di numerose zone di sosta e collegata da un'ampia rete stradale nonché vicino alle Salinelle uno dei siti naturalistici più importanti della Sicilia la struttura come specificato dalla delibera manterrà la vocazione sportiva e servirà per ospitare allenamenti di atletica leggera da parte di agonisti ma sarà aperta anche a tutti coloro che amano praticare lo sport all'aria aperta garantendo le condizioni di sicurezza l'obiettivo quindi è trasformare l'impianto pensato negli anni 90 per i ciclisti in una pista di atletica leggera dove possano trovare ospitalità varie discipline sportive agonistiche non un impianto aperto a tutti gli sportivi ma anche utile per ospitare manifestazioni legate al settore turistico e dello spettacolo un genere di impianto di cui paterno e più generalmente tutta l'area nord-ovest del comprensorio etneo sono sprovvisti questa delibera spiegato l'assessore allo sport Alfredo Minutolo rappresenta un atto politico con cui vogliamo dare una svolta alla questione velodromo ci auguriamo continua l'assessore Minutolo di trovare in tempi utili un soggetto pubblico privato capace di cogliere le potenzialità dell'impianto sportivo ed utilizzarlo come punto di attrazione per centinaia di sportivi saranno gli uffici del comune a redigere il bando la giunta comunale ha fissato entro il 31 dicembre la data entro la quale determinare l'ultimo e definitivo passaggio rappresentato dalla firma che sancirà il trasferimento della gestione del velodromo dal comune al nuovo soggetto gestore e questa era l'ultima notizia per oggi Chuck News riprenderà puntualmente domani sera io vi ricordo la prossima edizione con il nostro telegiornale la prima va in onda come sempre alle 20 vi ricordo anche tutti gli aggiornamenti con la nostra pagina facebook e con il nostro sito internet www.chacktelesud.com a voi un buon proseguimento di serata